Musica Presentiamo Francesca, una ex alunna dell'Oncadi, questo mi piace dirlo, una di quelle ragazze che è sempre stata diversa in tanti modi. L'altra volta abbiamo fatto la presentazione, ha fatto la presentazione a me la godo, ovviamente il spazio più grande, scenografia diversa eccetera, però il fatto che ci si rincontra qui è un buon segno, un buon augurio sicuramente per la tua notorietà. Bene, il libro abbiamo detto che affronta varie tematiche, io, come professoressa, leggendo alcuni passi di quando tu eri nostra studentessa e magari hai rallentato un po' il tuo ritmo e poi invece l'hai ripreso, vorrei che tu ci raccontassi un po' e soprattutto adesso un messaggio ai giovani almeno che magari stanno ancora facendo scuola, su quanto potrebbe essere importante la cultura al giorno d'oggi o magari per realizzare i propri sogni. La scuola è stata una bella esperienza. Ho conosciuto le mie amicizie più belle, più importanti che ancora oggi mi vengono. Ho raccontato di viaggi fatti con la scuola che hanno significato molto perché poi per degli episodi che sono successi, ma anche proprio per i luoghi vissuti. Con te la metodo, tu sei anche tu, quindi... Va bene, passiamo ad un altro spunto. L'amicizia, la vera amicizia. Io qua già mi inizio a... Allora, perché vorrei tanto che tu parlassi un po' delle tue amicizie, sia quelle magari raccontate nel libro e sia di quelle che poi vivi ancora oggi quotidianamente? Perché ora siete tutti amici, amici su Facebook, amici su Messenger, però magari al di là della faccia che poi molti mettono, non c'è nient'altro. Invece tu nel tuo libro, raccontando di un amico di Flavio, servo Flavio, hai fatto capire che con questa persona hai proprio vissuto fisicamente emozioni, momenti, pensieri e quando lui ti ha chiamato, anche se non ti ha raccontato della sua malattia, eccetera, tu non hai pensato, ah mannaggia quanto è stato cattivo, oppure che chiami quei... No, hai detto, ha bisogno di rimeliorato. E hai pensato anche solamente di fargli un abbraccio, pensando alla forza che sarebbe stata... cioè che è l'importanza dell'abbraccio. Allora... Ora tu condividi, forse con noi che siamo un po' più adulti, che ora questo termine amicizia viene usato troppo e troppo male. È male, sì. Come si può fare per far riprendere i buoni rapporti? Allora, il problema è che si è perso un po' tutto, l'amicizia, i rapporti umani, che... Che sono scritti dai social. Esatto. L'uso spropositato, perché io posso dire che, per quanto mi riguarda i social, sono stati un grosso veicolo per me, per incontrare gente, per... Conosciuto forse anche da un salvaggio di miscio, attraverso i social. Di personalità, eh. Quindi, sono importanti, sono importantissimi, sono un po' come un coltello, utilizzato bene, ha una funzione, appunto, positiva, e diversamente può anche uccidere. C'è uno strumento che può cucinare, può far cucinare bene. L'amicizia per me è stata, è un valore assoluto, spesso gli ho dato più importanza anche dell'amore. I veri amici che poi oggi sono ancora qua, perché hanno accanto a me, ci sono sempre stati, forse perché abbiamo saputo viverci, saputo vivere i momenti, saputo vivere i no, ma anche i vaffancuro, quindi anche il dirsi, quello che in quel momento realmente pensi e lo dici parlandoti, non attraverso la chat di Whatsapp, perché, eh, no, il rapporto vero è quello che adesso manca. Io in fondo vedo anche qualcuno, sto guardando te, sì, no, no, l'Angela Rita lì, che è una delle amiche citate all'interno di questo libro, perché ha vissuto con me gli anni, ovviamente sotto me di te, sto, vieni più qua, vieni vicino a me, quindi, lei era un'altra rivoluzionaria cubana, era un'altra rappresentante, che l'ho portata a Roma, ecco, quindi anche lei ha vissuto con me questi anni, un po' della lotta scolastica e non solo, ecco, e quindi tra una, la sera spesso ci si incontrava per capire, oh, Dumerica, Mafia, Madush, sì, facciamo un'assemblea, però qua, in Gressina c'è una scatta dei messi, quindi noi dobbiamo cercare di trovare le sostegno, ma non è così, e qualcuno si è fatta male, hai capito? Quindi dopo le prime fratture, e i primi trami cranici, avevo cercato di individuare un modo per farli restare, durante le assemblee, quindi un po' quello, un po' i pianti, per i vari malumori che stavamo attraversando, la nostra è una di quelle amicizie che si è consolidata e che si porta ancora oggi, che vive ancora oggi, lo posso dire, grazie anche a te. Grazie a te. L'amicizia con Flavio è l'amicizia dai tempi proprio dell'infanzia, quindi siamo cresciuti insieme, abbiamo vissuto insieme, perché eravamo vicini di casa, per cui questa amicizia fratellanza, questo legame che è andato oltre il tempo, oltre anche le varie circostanze, che poi ci hanno allontanati, perché lui è andato a vivere fuori, però lui è uno di quelli che c'è, e che io so che c'è, e lui sa la stessa cosa di me, per cui anche se noi non dovessimo incontrarci sempre, o meglio lui magari può capitare che venga a Manfredonia per due ore, io non me la prendo se lui non mi chiama, perché so che lui c'è, oggi manca questa cosa, non mi mandi tu un messaggio, quindi vuol dire che non è amico. Il messaggio finale per chiudere questo, l'amicizia vera non è quella che oggi... Io auguro a tutti di trovarla, perché è importantissimo. Senti, sempre parlando di rapporti familiari, c'è anche il rapporto con la nonna, a me è andato un attimo, mi sono ritrovata come figlia, come madre, che ci io gli racconti di questo rapporto con la nonna? Allora, mia nonna è stata, i miei nonni sono stati un pilastro, soprattutto quando metto insieme due riflessioni, il rapporto con la nonna, soprattutto perché credo, leggendo quel libro, che in alcuni periodi, in alcuni momenti, il rapporto magari con i tuoi genitori, è stato il di linea, come un è stato, diciamo, pacifico. Esatto. Quindi quanto contano queste tre figure? Contano perché sono stati pilastro, scialuppa di salvataggio, a seconda delle situazioni. La cosa più bella, forse mi ha insegnato mia nonna, è creare. Mio padre è sempre stato il mio punto, il centro del mio mondo, poi perché per lavoro è dovuto mancare negli anni, quindi quello che ti manca diventa sempre quello che ricerchi, no? Quindi diventa sempre quello, la parte più importante, perché manca in quel momento. E poi le sue passioni, tutte le cose che mi ha trasmesso, ho capito anche lì, un po', non tardi, perché l'ho capito, quindi quando lo capisci, è mai tardi, che ho avuto due bei genitori. Vi ringrazio perché comunque fanno parte del mio percorso, hanno non accettato, è brutta la parola accettare, che cosa devi accettare? Cioè hanno condiviso esatto il mio percorso. Allora, mi spieghi, ci spieghi, perché questa mi è piaciuta, la rivedo in altre situazioni spesso, per ritrovarsi bisogna necessariamente perdersi. Io volevo dire che ogni volta che mi sono persa, poi mi sono ritrovata. Dovevo proprio frammentarmi, dovevo far cadere tutte le strutture, tutto quello che faceva parte, le mie convinzioni, tutto quello che faceva parte, tutto quello che faceva parte fino a quel momento di me, quindi mi dovevo un po' perdere nel mondo, nelle risposte, nelle convinzioni, in tutto, negli schemi, per poi ritrovarmi, e quindi darmi delle risposte diverse, nuove. La diversità. Tu che l'hai vissuta, che lo vivi in prima persona, le varie diversità. Io penso che... Mi hai anche parlato, per cui alla fine mi devi dire il coraggio, perché qua c'è molto coraggio, credo. Direi. Allora, io penso che forse negli anni abbiamo dato più valore, più peso all'uguaglianza, quindi questa fissa, no? L'uguaglianza della... Dice, c'è di uniformarsi. Esatto. E non poi al valore dell'essere diversi, perché siamo tutti diversi. Il buddismo mi ha insegnato una cosa, no? I tai doshin, si dice. Diversi corpi, stessa mente. Le persone possono, sono tutte differenti, hanno delle loro caratteristiche, delle loro peculiarità, delle loro attitudini, un loro carattere, però possono avere un unicamente, che non vuol dire uniformarsi, omologarsi a un pensiero, ma avere un unico obiettivo, che può essere la felicità, la serenità, l'equilibrio, la pace mondiale, uno qualsiasi. Basterebbe l'umanità. Basterebbe l'umanità. Ecco, appunto. Perché hai scritto questo libro? Non te ne ho venuto da più. Non ci credo. Ho iniziato tra i banchi di quella famosa scuola, così, ho iniziato un po' per sfogo, con un mio bisogno, più che di risposte, proprio di dire, di dire quello che avevo dentro, di tradurre in qualche maniera quelli che erano gli stati d'animo, quelli che erano le sensazioni, quelli che erano i miei giorni no, e anche quelli sì, perché poi anche quelli sono, vanno ricordati. Molto spesso, sì, è vero che le ispirazioni più belle, più grandi, vengono dal dolore, quindi dalle situazioni più spiacevoli, però è anche vero che dobbiamo prendere l'abitudine anche di viverci dei momenti belli e quindi di dire sì, ci sono, li racconto, li voglio donare anche agli altri. Questo. Quindi per donarti a tanti o anche per dare qualche messaggio. Anche sicuramente. Quando ho deciso di scriverlo, ovviamente non ero consapevole del fatto che un giorno non ci avrei mai pensato forse di pubblicarlo, era lì così, poi un giorno, tra l'altro è iniziato circa 12 anni fa, c'è stato poi una pausa, un blocco, vero e proprio, durato, abbastanza lungo, durato, e io e te ci siamo già capiti, che è durato tanti anni. E trovavo le botolette e l'altro, il capitano che è loro, cosa su, una botoletta e l'altro, adesso ci abbiamo la manzarra rosa, Fabio, il polo, facciamo il polo, solitamente il polo non mancava, quello è tipico, e tra un caffellato faceva, ti leggo una cosa, mi leggero, faccio, ah, e poi faceva, però adesso non è ancora il momento, e basta, non parlare più. una volta mi ha invitato, e dopo il pranzo, ma ti faccio leggere. Sì, e c'era questa cosa di condivisione, cioè, il cibo che ti entra, ma poi ti entra anche la parola, ed era bellissima questa cosa, perché non era solo mangiare assieme, perché poi da lì, ovviamente, si passava. E io poi ho detto, senti, io il libro, non lo so che cosa dice, che cos'è, però dalla preparazione, mi sembra molto bella, fatti la mostra. Sì, infatti, poi dopo, incoraggiata anche un po' dall'ispirazione che mi è tornata, perché nel frattempo, dovevo finirlo, questo benedetto libro, e l'ho finito, l'ho terminato quest'anno, e anche da chi poi l'ha letto, ho detto, ma perché no? Allora, ok, facciamolo, con grossi sforzi, però sì, ho detto, voglio farmi, e fare questo regalo, ho fatto un sogno, te la ricordi questa frase, che dicevo, mettevo la gente davanti a un libro, a risveglio, il mondo era diverso, sorridevano tutti, cioè questa è la mia, tra virgolette, pretesa, ora, può non piacere, può essere criticato, discusso, non a tutti, assolutamente, qualche critica, qualche fabbuffo, siamo abituati, certo, e anche perché poi, dopo, sono abbastanza caldi, quindi, sicuramente, sarà soggetto, a critiche, però, sentirmi dire, magari da una persona, io non ho mai letto, però il tuo lo voglio leggere, ma non perché, voglio fare concorrenza a un coelho, mai sia, però magari, chissà, dare lo stimolo, no, alla lettura, che è una cosa importantissima, io ho voluto fortemente, questa presentazione, in questo luogo, perché, molti non sanno nemmeno, che a Manfredonia, c'è la Mondalori, cioè, ce l'abbiamo, abbiamo uno spazio, abbiamo anche capito, che si possono fare, che ci possiamo fermare, io le dico sempre, ci dobbiamo fermare un attimo, e ci incontriamo, sulle parole, ecco, trovo Francesca che conosceva, e Valeria, dicevi di Francesca, ha detto qualcosa, vuoi dare un'occhiata, a questo testo, e, forse sono stata anche più nuda e cruda, dai una mano, e quindi, siamo rimasti a parlare, un attimo, sono tornati in classe, poi ci siamo dati un appuntamento, questo per la cronaca, perché se no, dobbiamo anche dare atto, a Valeria, che quando si impegna, queste cose, diciamo, diciamo che credono i momenti, io credono i momenti, e niente, Francesca mi ha mandato questo testo, e io, naturalmente, ho tergiversato un attimo, prima, di incominciare a leggerlo, perché c'è sempre un sacco di cose da fare, e poi ho incominciato a leggere, e ho detto, ah, questa cosa qui, è una cosa che vale la pena, vale la pena sicuridire, quindi, ho letto il testo, e mi sono accorto che Francesca, forse, anche perché è andata a roncarsi, griglia, griglia, precisiamo, e ci sono gli interessi personali, perché Francesca sarebbe piaciuta moltissimo a Serricchio, al preside, no, ho capito, dico, Francesca sarebbe piaciuta moltissimo al preside Serricchio, perché scriveva anche lui, e lui è stato vicepreside 40 anni, quindi, vi ho immaginato insieme, anche se poi siete capitati in periodi diversi, e quindi, ho capito che Francesca, insomma, aveva qualcosa da dire, e la diceva bene, e era un testo, che, anche forte, esprimeva molto coraggio, molto coraggio, perché non è facile trovare, narrazioni di questo tipo. Dal punto di vista della scrittura, arriva una omogeneità, che non denunciava, diciamo, il fatto che fosse stato spesso in periodi diversi, e quindi Francesca è stata molto brava a rendere omogenea la narrazione, e, repito, denunciava coraggio, e, induceva, invitava a riflettere, a riflettere sulla questione della diversità, questa cosiddetta diversità, in un contesto come quello meridionale, che ha sempre bisogno, diciamo, di occasioni, di riflessione, e quindi, abbiamo cercato di capire cosa si poteva fare, insomma, ci siamo studiati qualcosa per due mesi, tre mesi, e poi, in quest'estate, quando è stato forse verso giugno, Francesca, oh, verso giugno? Sì? L'ho dato la morte, tutta l'estate, lo so. Sì, perché è finita la scuola. Io pagherò, pagherò per questo. Verso giugno, allora, abbiamo incominciato a lavorarci, a lavorarci seriamente, a cercare di capire se c'era necessità di fare degli interventi, di editi in particolare, ci siamo accorti che non c'era questa necessità, ma ne, diciamo, qualche sfumatura, e che il racconto era coerente. Un racconto che è un, non è un romanzo, ma non è nemmeno un racconto, non è nemmeno una biografia, è una biografia, autobiografia romanzata, ma essenzialmente, quello che abbiamo detto, è una testimonianza, una testimonianza di un periodo storico, di un tipo umano, di una comunità, e ci abbiamo lavorato, abbiamo anche fatto quella splendida copertina, poi il libro, non per me, proprio a prenderlo in mano, ha toccato, favoloso, c'era molto come impaginato, come leggibile, e come ho già avuto occasione di dirlo, abbiamo anche deciso di mandarlo a distribuzione nazionale, per cui sarà presente, spero, alla prima idea, a Mondadori, perché in Italia i romanzi non tirano, c'è questo tipo di narrativa, in generale, la narrativa non viene conossa, però qui c'è qualcosa di più, c'è appunto una testimonianza, c'è una riflessione, c'è un racconto, e speriamo che adesso incominci a funzionare anche a livello nazionale, come sta funzionando adesso. Francesca, ripeto, spero che continua a scrivere, perché è brava, grazie professore, brava, proprio per anche fare la giornalista. Io mi auguro che sia l'inizio di una lunga serie di riflessioni su queste tematiche sociali, che devono essere affrontate, io volevo dire una cosa a proposito di questa cosa, della diversità che più volte è uscita. Una settimana prima che venisse pubblicato, cioè che ci fu la presentazione del libro, eravamo ad un caffè io e Francesca, e io gli ho detto, questa non è la presentazione del tuo libro, è la nostra vita. Allora, con Francesca, vabbè, sappiamo quale abbiamo pensato, cioè è una vittoria mia, di Marco, di Francesca, di Lilli, perché credo che siamo stati i primi, insieme ad altri, a lottare per certe cose. Però, ancora, siamo abituati costantemente a catalogare queste figure bidimensionali, il disabile, la rumena, e nonostante tutto, in queste categorie che spesso anche noi siamo inciampati a caduri, ci siamo sentiti diversi e non compresi, cioè tra i nostri stessi amici, non compresi ancora, e dici, ma scusa, ma perché lo stiamo facendo? Volevo dire ai padri, alle mamme, è determinante alla famiglia, la famiglia non deve dire perché, deve dire già mamma, certo, in qualsiasi momento mi chiamo, basta, queste sono tre parole che io consiglio vivamente a tutti noi, mai dire perché, o come mai, forse che noi lo abbiamo fatto, a tutti i miei, se sennò, quello è il primo acido, gli altri sono importanti, però se non senti quello qua a dire, vai da nessuna parte, io ne sono convinto, ma non è per prenderci merito, perché abbiamo capito come farlo. Aggiungo solo una cosa, poi volevo dare spazio proprio a voi, perché mi piace questo, questo movie stasera, io non volevo che fosse il romanzo omosessuale, perché non è, non è questo, molte persone, Antonio è stato uno dei primi lettori, perché l'ho coinvolto nella prima presentazione, lui ha fatto un bellissimo reading quella sera, lui mi ha detto tante cose, tante belle cose, nelle quali lui si è visto riflesso, quindi questo è l'obiettivo, non è metterci ancora di più in mostra come persone diverse, altrimenti non ha senso, e non è omologarci, è trovare l'armonia, quindi se riusciamo a trovarla, raccontandoci, e quindi facendo in modo che nel nostro racconto, che non necessariamente deve essere, deve passare attraverso un libro, può passare anche attraverso un dialogo tra amici, come quello fatto con le nostre cotolette di ricotto di pollo, e allora sì, abbiamo ottenuto un risultato, questo era, grazie a noi. Diceva Valeria, anche la foto è legata, io sto guardando un paesaggio, questo paesaggio l'ho scoperto per caso, in realtà non ci dovevo proprio essere, in questo posto, perché durante un viaggio, stavo scendendo giù a Foggia, da San Benedetto del Tronto, il treno, per delle coincidenze, io ci sento in fuoco, è iniziato l'incendio, finiva più, tre ore fermi là, chiamo una ex collega di lavoro, mi fermo a Guglionisi, che è bellissimo, è un po' un paradiso, ora se quel treno, mi avesse portato, in quel caso a casa, io non avrei scoperto, questo posto, quindi in quel caso, il valore di certe coincidenze, di certi, tra virgolette sbagli, E questa foto di spalle, quindi è un po' anche un voler, non mostrare troppo, quindi non il volto, ma le spalle, guardando avanti, ce ne sono tanti di significati, si riferisce molto, a quelle persone, che sono andate via, quindi che non hanno avuto, la forza, il coraggio, il tempo, perché a volte è semplicemente, una questione di tempo, come si parlava prima, dei coming out, ma a volte uno, può anche essere pronto a 90 anni, uno non ci è arrivato, perché è morto prima, io non discuto su questo, ognuno ha i suoi tempi, per decidere di venire fuori, di vivere o meno, in questo senso, essere stassi, ma chi, io, tu, tutti, va bene, e poi sicuramente, anche in questo luogo, che apparentemente può sembrare, non offra nulla di positivo, ma non è così, perché io sto vedendo, in questi giorni, come sta rispondendo, questa città, questo stimolo, e allora dico, beh, vabbè, c'è qualcosa, sì, c'è qualcosa, c'è una voglia, si può fare, sì, c'è una voglia di, di fermarsi, a riflettere, come ci hai detto, anche solo quello, va bene, va benissimo, noi abbiamo avuto tanti cambiamenti, no, da 17 anni che ci conosciamo, io, la Francesca che ho conosciuto 17 anni fa, non sarebbe lì di aver restata neanche una volta, sarebbe andata lì, e forse, con la litarra, e le madonne, ci lasciano, sì, anche infatti, la ragazza fuori dagli schemi, diceva sempre questa cosa, io, non sono fatta per questo mondo, io sono per un altro pianeta, e forse, questo essere stassi, anche come, cioè, essere stassi in me stessa, in modo da farmi conoscere agli altri, e farmi apprezzare per quella che sono, non fingere di essere un'altra, per essere apprezzata, ma, se restassi in me stessa, in modo che gli altri mi apprezzino, questa è la mia sfumatura, c'è anche questo, ma non tu hai mai visto, è la mia, è la mia domanda, io non ho ancora le risposte, la mia risposta, non so, ma in questo testo, c'è, c'è, c'è la domanda, c'è la domanda esistenziale, sarà un link da coordinatore, grazie a tutti, grazie a tutti, che aspetto alle voci, e a che punto sono le reddite, ecco appunto, le reddite stanno, senti, stanno andando, l'editore se ne scappava, più l'avolo, ma c'è, molto, vabbè, poi lo chiamo, stanno andando, veramente al di là, delle mie aspettative, perché io, solitamente, quando faccio le cose, le faccio, con un minimo di cognizione, di caccia, per favore, le faccio, perché penso, che possano, oppure, ce ne rendo, quando ci credi, ci credo, però, un risultato così, importante, in pochi giorni, non lo avevo considerato, no, stiamo, stiamo, perché io dico stiamo, adesso lo state condividendo con me, quindi stiamo viaggiando, nel senso che, Andrea accennava, la distribuzione è partita, quindi anche a livello nazionale, è possibile, ordinarlo e quindi acquistarlo anche fuori, e sto organizzando delle presentazioni, che vanno oltre la capitanata, quindi anche questo, anche portarvi, perché è un modo per me, per portare questa città, questa terra, anche fuori. Grazie. Grazie.